Ma ehi, come state? Come va la vostra esistenza? Qual è la miglior struttura in assoluto per le speedrun? In questo video farò una classifica delle strutture in base alla loro utilità nelle speedrun. Questa classifica l'ho fatta in live su Twitch, quindi se volete seguirmi lì, seguitemi. E ovviamente siete liberissimi di essere in disaccordo con me, quindi anzi, scrivetemi nei commenti cosa avreste fatto di diverso, cosa avreste modificato della mia classifica, e ne parliamo insieme. Ho aggiunto anche la pozza di lava e la rovina di magma nella classifica, anche se non sono propriamente strutture, giusto perché sono estremamente utili per la speedrun, e non si sa il motivo, ho messo anche la portezza e la stronghold, che sono palesemente in classe S, ovvero la classe più alta, semplicemente perché sono indispensabili per la speedrun. Inoltre manca il monumento, c'è anni come ne parlerò alla fine del video. Vi ricordo di lasciare like, è molto semplice, anche solo per aprire Minecraft fate più click, invece per lasciare like basta scorrere un attimo giù e cliccare su quel pollicino, grazie mille. Vi lascio al video, buona visione. Pozza di lava, dove la mettiamo la pozza di lava? Allora, 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 partiamo subito con le nostre considerazioni da speedrunner avanzati. Ogni volta che trovi una pozza di lava sei contentissimo, sei davvero felice. Sia che la trovi in un'isola vicino all'oceano, sia che la trovi sulla terraferma vicino a un villaggio, sia che la trovi dovunque, una pozza di lava in sé costituisce una start, mentre il magma in sé non costituisce una start. Ma la pozza di lava sì, la pozza di lava può costituire una start. Una start lenta, magari anche oltre 4 minuti, però comunque entri col legno, tutto il piccone secchio, e magari un po' di cibo se trovi anche qualche animale in giro. La metterei in A. Non è S perché appunto si entra leggermente tardi, però cazzo è importantissima la pozza di lava. È da speedrunner, ti senti proprio uno speedrunner quando fai il portale con il secchio, con la pozza di lava. Seconda struttura, magma, le rovine di magma anzi. È vero che di per sé anche la lava deve avere degli alberi vicino, ma comunque la lava costituisce un'entrata, può avere caverne intorno, puoi anche semplicemente scavare giù a casa intorno e magari trovare del ferro. Quindi la metterei un po' sotto la pozza di lava. Ogni tanto è un po' uno scam, quindi insomma bella ma non troppo. O in A dopo la pozza di lava o in B. Per il momento magari la mettiamo in B e poi vediamo. Ah, villaggio del deserto, ottimo villaggio, contiene il cibo come abbiamo detto ieri, contiene, c'è sempre l'iron golem, ovviamente nella grande maggioranza di casi non vado a prendere quel villaggio di merda che ti trovi in quel seed maledetto in cui trovi il villaggio e non c'è neanche il cibo. Il problema del villaggio del deserto è che non c'è legno, vero? Tanto la crafting la puoi trovare dentro una casa e gli arboscelli li trovi, è vero, gli arboscelli li puoi trovare. C'è tutto tranne il legno, esattamente, volendo non c'è neanche la cobblestone. Quindi non lo metterei in S semplicemente perché non ha legno e la cobblestone. B è comunque un villaggio ragazzi, è comunque un villaggio, cioè è un villaggio come un altro, vi faccio un esempio. E poi un'altra cosa molto importante, è nel deserto e le pozze di lava si trovano di più nel deserto o comunque sono più facilmente trovabili nel deserto, il che non è male. Il pozzetto del deserto. Leggende narrano che dagli spigoli di questo pozzetto del deserto, nelle quattro direzioni, ci siano strutture. Quindi seguendo lo spigolo e andando nella direzione di uno spigolo tu trovi una struttura che può essere un villaggio, una piramide, una torre dei pillager, qualcosa insomma. Leggende metropolitane in quanto ho capito, cioè non sono vere. Secondo me è una cazzata una leggenda metropolitana, ad ogni modo l'utilità nelle speedrun è zero perché se la trovi non è che allora dici, ah minchia allora la posso trovare in un villaggio. No, il villaggio te lo devi trovare vicino, mica lontano. Quindi è completamente inutile il cazzo, quindi ciao ciao. Detto ciò andiamo avanti. Allora le strutture del nero abbiamo detto che le facciamo dopo. Mob spawner. Molto raro, molto raro e questo lo penalizza. Perché potrebbe essere molto più frequente e uno potrebbe avere molte più possibilità e molta più fortuna. Il fatto che sia molto raro lo rende anche difficile da categorizzare. Ad ogni modo è utile raga, è utile perché può contenere lingotti di ferro che danno un boost alla speedrun. Può contenere addirittura la mela d'oro P. Non sempre trovi il secchio, questo lo penalizza un po', non sempre trovi il ferro e questo lo penalizza un po'. A volte comunque ci sono i mob che ti fanno un po' di danno, se non hai cibo è un problema. E soprattutto non è così tanto frequente come cosa, al contrario di tutto il resto. Quindi voi da dove lo mettereste? B, C, D, D addirittura alla pari del pozzetto di merda senza un cazzo o no? Lo metterei in C, lo metterei in C per il momento, dai, C ci sta. L'Iglu, signori, mai visto utilizzato da nessuno. So che può essere utilizzato per le speedrun, però in particolare nella 1.15, non tanto nella 1.16. Ed è comunque per una perdita di tempo nella stragrande maggioranza dei casi. Chi ha mai usato un iglu? Chi l'ha mai usato? Nessuno. Il passaggio sotto è tipo al 10%, tra l'altro addirittura, io credo fosse al 50%, Invece no, addirittura al 10% di, forse al massimo davanti al pozzetto perché ancora ancora appunto un letto si può guadagnare, una mela d'oro si può guadagnare, ma a parte quello completamente inutile. Andiamo avanti. Tempio della giungla, sottovalutatissimo, se uno sa dove cercare le casse, e io tra l'altro non me lo ricordo, dovrei impararmelo bene, può avere dei materiali interessanti tipo diamanti e oro, diamanti e oro, però è anche vero che è un po' raro e soprattutto, cioè a volte trovi delle casse che sono inguardabili con dentro 3 redstone e basta. È pari a un mob spawner, raga, è raro come un mob spawner, può avere le cose che ti servono come un mob spawner, io lo metterei C come il mob spawner, raga, no? Piramide, come struttura è decente, è molto difficile che sia bella, cioè non è che è molto difficile che sia bella, ma può andarti bene e costituirti meglio di un fabbro, può andarti male e puoi non trovare un cazzo e essere una perdita di tempo, è un po' un 50 e 50, quindi di sicuro non la metterei in A assieme al villaggio del deserto, alla pozza di lava e al magma, la metterai in B, ragazzi. Mineshaft, signori, l'odio perché c'è sempre la lava, soprattutto se si trova a livello dei diamanti, cioè a livello delle pozze di lava, c'è sempre le cascatelle di lava di merda che ti mettono fuori strada, che credi che ci sia la pozza vicina e invece sono quelle cascate del cazzo. Se trovi una mineshaft a livello della lava, stai pur certo che se cerchi di trovare una pozza di lava, farei una fatica della madonna, perché c'è solo la mineshaft con le sue lava schifose. La metterei C, ultima, o stai giocando a SRG, quindi scout and route, quindi il seed già lo conosci, apri la cassa e sai già cosa ci trovi, quindi la giochi con un senso, se no quando mai uno speedrunner va giù in una mineshaft e trova le cose che gli servono nelle ceste, difficile, difficile, molto. Torre dei pillager, signori. Una volta nella mia esistenza ho trovato il ferro nella torre dei pillager, una volta nella mia esistenza. Quindi dal momento che abbiamo messo la mineshaft in C, metterei anche questa in C, sempre ultimo posto o penultimo posto. Al momento non la metto in D perché in D sto proprio mettendo le strutture che raga non servono a un cazzo e non vengono mai giocate. Quando mai abbiamo giocato queste cose? Per ora metti la C, per ora teniamola qua, per ora teniamola qua, dai, per ora teniamola qua. Villaggio normale, signori, villaggio normale. Ora, questo qua, che dire? Ha cibo, ha legno, ha la cobblestone nelle case, ha l'iron golem. Praticamente al 99% dei casi c'ha il cibo perché raramente non si trova. Ha gli alberghi, le case con 4 letti velocissime e ti prendi 4 letti a velocità della luce. Ha le casse con gli smeraldi potenzialmente, puoi fare i lavori, sono villaggi nella pianura quindi è tutto aperto intorno, puoi trovare pozze di lava. È essenzialmente un villaggio ottimo. Non lo so, io personalmente la metterei in S, a me piace molto, a me piace molto come start. Questa, secondo me, è una delle strutture per il Godseed. Il world record con quale villaggio è stato fatto? Villaggio della Savana. Un po' inferiore a quello della pianura perché non ha la cobblestone nelle pareti della casa. Per di più, spessissimo è sulle colline. Per carità, anche quello della pianura e anche quello del deserto può essere sulle colline, ma quello della Savana di più perché nella Savana ci sono più colline. Quindi spessissimo trovi casa sopra, casa sotto, casa destra, casa sinistra. Ci possono essere, attenzione però questa è una cosa da non trascurare, ci possono essere le case con il secchio dentro. Le case rosse con il secchio dentro. Non posso metterlo B se ho messo A quello del deserto. A legno è il contrario di quello del deserto e quindi è già una risorsa in più e alle case in cui possono esserci il secchio. Lo terrei comunque in A perché non è così God con il fatto che spesso spona sopra le montagne e devi scavare sotto per la cobblestone. Ovviamente, ripeto, queste sono solo le mie personali considerazioni e niente, ovviamente potete essere liberamente in disaccordo con me senza nessun problema. Andiamo avanti. Questa sarebbe la barca completa, me l'ha tagliata di brutto, però sarebbe la barca completa, quella con sia il cibo sia il ferro. Se va tutto bene, addirittura cibo. Tutti gli utensili in ferro e addirittura armature in oro. Ha anche il legno nei pilastri della barca, è ottima, è ottima questa barca. La barca completa è ottima, quindi la metterei in S come il villaggio. Io la metto dopo, ripeto, per preferenze personali. C'è chi preferisce il villaggio, c'è chi preferisce l'oceanica. Potenzialmente, a mio parere, nei record mondiali, nei record personali, è sempre meglio la barca. Entri prima e nel villaggio sperichi più tempo, però io la metto dopo perché preferisco il villaggio. Comunque, S sicuramente, raga, S sicuramente. Barca, ma solo la parte dei materiali. Questa è ottima perché uno entra con piccone, secchio, magari anche tutti gli utensili in ferro che sono più veloci. Mettete che uno deve pontificare nel nether, con l'accetta in ferro, scava più velocemente il legno degli alberi del nether e può pontificare più in fretta. Quindi è ottima. Nel nether devi sprecarti un po' a cercarti il cibo, a cercarti gli oglins, a cercarti i funghi. Quindi A sicuramente. La domanda è, A prima o dopo questi villaggi? Scegliete voi. Qua per me è proprio estremamente uguale. Barche del cibo, uno dei più grandi scam dell'esistenza. Per carità, trovi il cibo, è comunque cibo, ma serve ben poco. Addirittura ti dà solo il cibo, quindi la metterei dopo il Jungle Temple, dopo lo spawner. Forse prima della Myoshaft e prima della Torre dei Pillager, a metà forse. Vabbè, raga, è qua, è questa la zona, non è che cambia tanto. Portale rovinato. Ora, la foto è quella di un portale completabile. Però, io sto considerando tutta la rosa dei portali. Quindi, esattamente come dice Ale, dipende molto da che portale è. Cioè, qua bisognerebbe fare una tier list di tutti i portali e mettere e classificare tutti i vari portali nelle varie parti, no? Me la sentirei di metterlo assolutamente non in C, perché è strautile. Si può addirittura trovare tanto ferro, l'ossidiana, l'oro, l'armatura in oro, l'acciarino. Ti dà un bel boost alla tua ranna. Lo metterai forse in B primo, raga. Perché è un po' come la piramide. Può essere utile, ma non sempre. Dipende un po'. Villaggio della pianura ghiacciata. Più di una casa che può darti lingotti in ferro. Non c'è solo il fabbero, ma ci sono anche altre case. Poco cibo, esatto. Per il cibo, semplicemente. Perché è vero, hai tanti letti. È vero, magari trovi anche un po' di lingotti in ferro di più possibilità, ma non hai fucking cibo. E soprattutto non c'è cobblestone nelle case, quindi anche qua ti devi scalare sotto. Cioè, ha lo stesso livello degli altri villaggi. Mi sembra troppo, lo metterei in B o qua o qua. Prima o dopo la piramide? Meglio della piramide? Sì, dai, meglio della piramide. B prima. Prima, dai. Villaggio della taiga. Di contro c'è che l'Iron Golem non spona sempre, che è in mezzo agli alberi. Quindi è un casino orientarsi, capire dove bisogna andare, dove sono le case, eccetera. A volte però ci sono mille fabbri. Non me la sentirei di mettere in A. Io lo metterei in B. Io, per preferenza personale, dopo il portale. Cioè, mi caso di più se vedo un portale che è il villaggio della taiga, onestamente. Allora, la casettina di merda nella palude, palesemente al primo posto, perché è utilissima, perché fai un sub 10 assicurato. È più carina del pozzetto di merda del deserto, quindi va avanti al pozzetto. L'utilità è uguale. Rovina oceanica. Quella con gli zombie marini, quella con le casse, con dentro magari una mappa del tesoro, se non mi sbaglio. Con carbone, anche del cibo ogni tanto. E anche un'accetta in pietra che, hey, può essere utile. Lo metterei solo davanti alla torre di pillager, forse. Magione. Completamente rarissima. Non l'ho mai vista giocare dallo speedrunner, sinceramente. O forse una volta sì, non lo so. Sinceramente non ne ho idea. Può essere cosa ma ci metti 30 minuti per luttarla. Non ne ho idea, non ne ho idea. Forse così, qua a metà. Ma in realtà non ne ho idea neanche di cosa contenca la magione. Non ne ho idea di cosa sia. Cioè, sinceramente non ne ho idea. Osso a 0-0 sarebbe questo. Non sapevo come metterlo. Osso a 0-0. Raga, qua dovete scegliere voi, perché io gioco senza F3. Quindi lascio scegliere voi. Non ne ho idea, sinceramente. Qual è l'utilità? Quant'è l'accuratezza dell'osso a 0-0? Non me lo ricordo più. L'avevo studiato per il tutorial e poi basta. Boh, raga, lo lascio qua a caso, ma non lo so. Ah, adesso passiamo alle strutture che sono indispensabili. Praticamente, quasi. Bastione housing. Ha un control housing, cioè che può avere la lava in giro. E vi giuro, la lava in giro non sbatti. Quindi questa cosa la penalizza di un filino, il fatto che si possa trovare così tanto spesso la lava. E soprattutto, altra cosa, se uno arriva da sotto e il bastione è in mezzo alla lava, si deve creare il ponte oppure deve salire verso l'alto, quindi spreca un po' di tempo. È il più veloce, se vi va bene, andate, arrivate alla parte giusta, raga. Se no, se no, cazzo, è un lentino. O primo della A, o ultimo nella S, non lo so. Primo nella A, ultimo nella S. Allora, qua ho di nuovo la preferenza. Lo metto ultimo nella S perché, minchia, non si vede neanche con sto colore. Non si può cambiare il colore. Allora, il bridge è bello perché c'è tutti i blocchi d'oro facili da prendere, ma è considerato anche internazionalmente da uno, da tutti gli spedano, è uno dei bastioni più rompicazzo dell'esistenza. Perché innanzitutto c'ha degli oglin sul ponte spesso. Quindi è uno sbatti. Poi, se hai la sfortuna di beccare le torri basse, è un casino, raga. È un casino, non hai ceste, non hai ceste. Hai letteralmente due ceste in tutto il bastione, raga. Due ceste in tutto il bastione. È il più lento, forse, tra tutti. Lo metterei in A. È comunque un bastione. I bastioni vanno davanti ai villaggi perché è più bello trovare i bastioni. Però è... comunque lo metterei in A. Non è così... non è così COD. Non è così COD. Tesoro. Uno dei miei preferiti. Forse è il mio preferito. Grande. Facile da vedere. Anche il bridge è facile da vedere. Questo c'è da dirlo. Anche il bridge è facile da vedere. E lo metto prima nell'housing, ma solo perché a me piace personalmente. Se no andrebbe dopo, probabilmente. Stables. Allora, qua è critica la cosa. Perché dovrebbero esserci due stables. Cioè, dovrebbe esserci uno stables bello e uno stables brutto. E andrebbero messi su due parti diverse della classifica. Perché? Va bene lo stables e hai un bot di blocchi d'oro. Da entrambe le parti il good gap. Tante triple ceste. Può essere bastione più veloce dell'esistenza e più bello. Va male? Non hai un cazzo. Non hai né triple ceste, non hai ossidiano, non hai cazzo. Non hai neanche i blocchi d'oro. Puoi letteralmente avere un fastion con uno stables. E se lo stables è davvero brutto, non te ne fai niente. Cioè, lo guardi e basta e dici, ma dai, non è possibile. Si controbilancia, diciamo. Può essere god come non può esserlo. È pieno di oglin. Che però sono anche una fonte di cibo, volendo. Come un bridge in realtà. Non lo so. Diciamo che lo metterei in A perché personalmente è molto grande, molto difficile da navigare, spesso è interrato. Non lo so. È anche il più difficile da imparare, raga. È anche quello che va più male. Quando fai l'amenante nello stables hai molto più possibilità che ti vada male. Quindi lo metterei in A e dopo il bridge. Perché a me è quello che piace di meno. Però mi rendo conto che... Cioè, raga, se lo stables è bello, se lo stables è bello, va qua. Cioè, se lo stables... Me lo metti davanti? Se lo stables è bello davvero, va qua. Manca il monumento oceanico. Non lo gioco mai. A me non piace il monumento. Perché non è molto difficile con otto blocchi d'oro e basta trovare l'ossidiana. Potenzialmente può essere devastante, ma lo metterei in B. Quindi, ennesimo del futuro, Photoshop ha un bel monumento qua in B. Questo video è finito. Non ho molto altro da dire. Ciao. Ciao.